60.000 volontari, assistenti volontari, che cosa devono fare? Abbiamo posto questa domanda. Che faranno questi volontari? Possono fare la multa a chi non porta la mascherina obbligatoria? No. Possono fare una multa a chi non mantiene i tavoli e i ristoranti distanziati? No. No. Possono intervenire a controllare un po' la movida? No. Possono regolamentare un po' il traffico? No. E allora noi ci domandiamo che cosa devono fare questi 60.000. Ci è stato risposto che possono fare moral suasion, cioè faranno in pratica gli esercizi spirituali. Quindi noi vedremo 60.000 persone andare in giro con il saio, con sopra scritto pentiti, è colpa tua, nei vicoli, nei mercati, tra gli stand dei ventitori, diciamo, di frutta. Abbiamo anche domandato ma saranno persone con una qualche specializzazione per fare la moral suasion, suasion, saranno sociologi, psicologi, educatori? Dice no. Hanno fatto una formazione professionale? No. Si sono formati alla scuola del niente e saranno chiamati a fare il nulla. Bene. Possiamo consolarci. Il governo ha deciso di ridare vita, come è evidente, dopo otto secoli, al movimento degli spirituali, agli allievi di Ubertino da Casale e Jacopone da Todi, che andranno in giro per i nostri centri storici a portare la buona novella a fare moral suasion.